1992-2022, a 30 anni dalle stragi. Il titolo dell'incontro dibattito ha svoltosi presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia nell'ambito del ciclo di appuntamenti organizzati dall'Ateneo sul tema dell'antimafia. L'incontro ha visto la presenza tra gli altri del procuratore capo del Tribunale di Foggia, Ludovico Vaccaro, e di Tano Grasso, presidente onorario della Fondazione Antiracket, che hanno relazionato rispettivamente sul contrasto alle organizzazioni criminali, il ruolo della società civile e sulla strategia del pool antimafia, idee e proposte di Giovanni Falcone. Oggi lo dirò proprio nel mio intervento, è stato fatto tanto dalla squadra Stato, deve fare un passo decisivo sia il mondo imprenditoriale che la società civile più in generale. Quali saranno i suggerimenti che si sentirà di lanciare anche e soprattutto alla platea dei giovani? In generale tornerò sul discorso che è necessario che aumentino denunce e testimonianze. Abbiamo ancora troppi casi di persone che non denunciano i reati di cui sono vittima e non testimoniano le cose di cui sono a conoscenza. Voi dovete sapere che fino a quel momento non c'erano, dopo più di un secolo di storia della mafia, non c'erano né la mafia né i mafiosi e venivano condannate. La forza della mafia fino a quel momento era la sua impunità. Grazie a Falcone, a Borsellino, a Caponnetto, a Dilello, a Guarnotta si inizia una fase storica completamente nuova.